questa collaborazione e iniziamo con questo video audio abbiamo qua va bene si vede a monitor si si vede solo che non si sente vediamo proviamo a mettere luce iscriviti al canale Si stanno raggruppando, ok, a livello mondiale si stanno raggruppando i migliori designer in ambito biomedico per la produzione di quelli che sono i design delle parti medicali. Ci abbiamo dall'India, ci abbiamo dalla Russia, ci abbiamo dall'America, dal Sud America, ci abbiamo designer che producono denti, designer che producono orecchie, nasi, che producono facce, che producono mandibole, che producono arti, quello che nasce in questo settore è intanto il macro dei designer in ambito medico, poi ci sono quelli specializzati in dentale, quelli specializzati per esempio in cardiochirurgia, quelli specializzati nello scheletro, quindi ortopedico, nel settore ortopedico, sono tutti, vi dicevo, dei designer che lavorano su pezzi individuali. Qua parliamo di macchinari, qua stiamo parlando di designer, sono due cose complementarie. Forse dare una breve introduzione a questa tecnologia. Noi parliamo di macchine che hanno un controllo numerico, che infatti abbiano bisogno di una geometria che devono realizzare, allora per avere quella geometria qualcuno deve prendere delle informazioni, lavorare su quelle informazioni e tirare fuori un risultato. Per esempio un paziente può scanalizzare 3D per ottenere un'informazione che il designer può modellare poi, per tirare fuori per esempio un lavoro dentale. Per esempio un braccio che faccio? Una copia di questo braccio e faccio il mirror, lo specchio. Un po' tanto, però semplificando tanto la discussione è possibile fare questa cosa. Già noi nel dentale lo facciamo, quando abbiamo per esempio noi abbiamo delle librerie salvate negli hard disk di denti di persone reali. Sono delle librerie di dentature naturali che erano di un'altra persona e li possiamo montare e stampare su uno di voi. Quindi abbiamo i denti quadrati, quelli rotondi, quelli... si potevano inventare, però perché inventarli quando basta scannerizzare dei denti naturali? Sono perfetti. Non hai bisogno di inventarti nulla e già lì abbiamo sviluppato delle librerie di denti naturali che girano su questo gruppo di designer. Ogni giorno stanno venendo catalogate un sacco di librerie, scannerizzate un sacco di librerie, stanno venendo messe nei gruppi e si può andare a scannerizzare o parti di altre persone oppure parti di se stessi e quindi andare a replicare alcune parti di corpo. È una rivoluzione. E poi l'utente va praticamente in linea, si sceglie le informazioni che gli serve come per esempio il pay per view. Vai sul tuo TV, prendi un file che ti interessa e lo apri. Da questa parte vai, cerchi delle geometrie che ti sono utili, le geometrie che vuoi stampare, scegli una geometria, la porti sul tuo computer, la verifichi se è corretta, se non ha dei problemi, se non ha dei errori, se è adatta al tuo progetto e poi la puoi produrre in maniera digitale stampando la 3D. Puoi stampare anche Barbara D'Urso. Volendo. Forse se mi date un secondo vi trovo qualcosa interessante. Capite? Si aprono degli scenari incredibili, nel senso voi pensate alla rivoluzione di tanti settori industriali che sta portando la stampa. La stampa, per esempio, chi va in guerra, Stati Uniti, mandano l'esercito, calano anche una stampante per i metalli che se si inceppa l'arma, sostituiscono il pezzo stampandolo, non lo fanno arrivare dall'America. Solo un'informazione, per esempio, questa è una cosa che sta mostrata al Fashion Week di New York. Parliamo di un attore, di un cantante, siamo già redletto, infatti a destra è il cantante, a sinistra è la sua testa stampata 3D. Viene scannerizzata e poi stampata con delle macchine. Le macchine ora sono piccoline, ma stanno facendo passi da gigante. Direi che abbiamo anche macchine da un metro cubo e ci sono anche macchine più grandi, però... Ma sono quelle di 3D. Ma è, sto sempre. Però pensate quanto tra 3 anni sarà facile magari trovare in casa di ognuno di noi una stampante e alla fine uno che fa? Si compra i file e se li stampa. Quindi nascono cosa? Gli store online dei file. Possibile. Le persone acquisteranno file e se li producono là ti serve, che ne so, set di pentole, ti stampi la pentola. Possibile. Ti serve riprodurre la chiave, è meglio avere il chip che la chiave, te la copia la chiave. No, ma già esistono per esempio i nostri fornitori italiani di sistemi stampa 3D in metallo, stanno collaborando con delle aziende che fanno delle chiavi uniche. Infatti ogni chiave ha una geometria unica che viene stampata 3D. E infatti a riprodurla sarà una difficoltà abbastanza grande per la complessa della geometria, per dei canali che hanno dentro e praticamente in questo mondo si proteggono i clienti un po' di più perché quasi nessuno o nessuno senza una stampata 3D in metallo può copiare quella chiave. Oggi una chiave normale la porti in un magazzino, qualcuno te la rifà in tre minuti. Una chiave complessa stampata 3D? No, non ce la fa. Così ti portano più sicurezza e più tranquillità.